Aveline, speravo saresti tornata. Che succede a questa povera gente? È un'infezione, ma loro credono a una maledizione. A dire il vero, solo un farmaco ottenuto da un raro fungo potrebbe salvarli. Che posso fare? Il fungo è difficile da trovare. Dice un proverbio, dove è umido in alto, in basso, là dove nessuno passa, il fungo cresce. E ormai non sono più così agile, né audace. Non dite altro, andrò a cercarlo io. Ti mostrerò dove trovarlo, ma fa in fretta. Forse dovrai coglierne più di uno per averne a sufficienza. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, bene. Ti ringrazieranno. Forse un giorno. Ascolta, molti altri hanno bisogno del tuo aiuto. Se troverai altri di quei funghi, di certo non rimarrai a corto di pazienti. Mi costarà molto. Ascolta, molti altri hanno bisogno del tuo aiuto. Ascolta, molti altri hanno bisogno del tuo aiuto. Oh, no. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti